Di quanto è esatta e minuziosa. Guida. Gli spiriti elementari o elementali, perché non hanno coscienza, costruiscono i veicoli fisici delle creature e agiscono sul veicolo fisico. Altri spiriti elementari lavorano sui fattori psicologici e agiscono sul piano mentale e spirituale. Succede anche che, mediante il trattamento di certi altri fluidi, una parte della coscienza riaffiori durante la crescita dell'essere umano, mentre è necessario che un'altra parte della coscienza rimanga nascosta, inespressa, a livello potenziale. Così una persona crescerà con un grande senso mistico, nonostante l'ateismo e le influenze materialistiche della famiglia o altre influenze. In un altro caso accade l'opposto. In certi casi vi è la forte tendenza ad essere, diciamo così, un artista o uno scienziato, nonostante le influenze contrarie ricevute in gioventù. Ciò è dovuto all'influenza di certe materie fluidiche che sono state preparate prima della nascita. Questa preparazione determinerà quale tipo di esigenza, tendenza e insegnamento dovrà emergere in un particolare periodo. Vengono preparati e organizzati altri fluidi che influenzeranno la realizzazione o meno di altri fattori. Da tutto questo forse potrete avere una sia pur vaga idea di quanto esatta e minuziosa debba essere la preparazione del cosiddetto individuo.